gentili telespettatori buona giornata ci sono sei regioni che rischiano la zona gialla quali sono e quali sono le restrizioni a cui alle quali vanno incontro intanto la sicilia è la prima che già in zona gialla questo ha firmato il ministro della speranza roberto non è il ministro del roberto né della speranza ma il ministro della salute roberto speranza che ha firmato l'ordinanza che stabilisce appunto il passaggio della zona gialla dopo un'estate passata completamente in zona bianca dopo due mesi 60 giorni l'italia torna dunque a dividersi per colori i cambi di colori sono già una realtà per altre sei regioni quindi sei più la sicilia sette tra regioni e province autonome potrebbe diventare a breve molto più che una ipotesi le diciamo le suddivisioni amministrative sono queste la calabria la campania il molise la basilicata la provincia di bolzano e anche il piemonte piemontene rischiano a breve il passaggio di fascia perlomeno stando a quanto sostenuto da sebastiani giovanni matematico dell'istituto per le applicazioni del calcolo piccone e membro del consiglio nazionale delle ricerche e riportato dal quotidiano la stampa i dati che arrivano dalle regioni le proiezioni vedono questo le uniche regioni italiane dove i contagi sono in calo al momento sono il lazio e la val d'aosta bene le restrizioni quali sono facciamo un confronto con l'inverno scorso qualora le regioni passassero in zona gialla saranno molto meno severe e limitanti dell'anno scorso non è previsto alcun limite orario della circolazione quindi nessun coprifuoco notturno sarà possibile muoversi tra le varie regioni anche senza il green pass si potranno raggiungere le seconde case fuori regioni a prescindere dal colore del territorio di provenienza e di quello di arrivo stesse regole della zona bianca anche per teatri cinema concerti musei ciò significa che è obbligatorio avere il green pass per entrare sia in zona gialla sia in zona bianca per entrare ad esempio al ristorante sedersi al ristorante e al bar gli obblighi che ci saranno sono tenere la mascherina oltre che al chiuso anche all'aperto e il divieto per i ristoranti di fare tavoli con più di quattro persone sia all'aperto che all'interno ma sono ammesse ed ero che qualora i commensali siano conviventi quindi se in dieci convivono allora puoi fare del tavolo di dieci persone potranno non mettere la mascherina i bambini sotto i sei anni e chi sta praticando sport quindi l'unica limitazione che non si possono fare le tavolate ristoranti e bisogna mettere la mascherina anche all'aperto col diretti critica questa misura dice una misura di sicurezza che pesa sugli incassi della ristorazione dopo le pesanti perdite subite per il lockdown anche per i tavoli torneranno ad essere distanziati almeno un metro tra loro e ciò significa che diminuiranno necessariamente gli spazi disponibili come sottolinea ancora col diretti l'impatto negativo si trasferisce a cascata sull'intera filiera con la riduzione di acquisti di prodotti alimentari e vino dalle aziende agricole poi oltre questo passiamo a una notizia diciamo contigua il problema è anche nelle scuole perché slitta il via della piattaforma web e ci saranno i controlli manuali già con il reddito di cittadinanza la piattaforma non ha mai funzionato parte la scuola e la piattaforma non è ancora pronta da questo si evince che lo stato italiano ha delle grandi e serissime difficoltà per quanto riguarda il web il paese è molto ma molto indietro intanto i presidi dicono bisogna ridurre la quarantena in caso di positivi quando stamattina partiranno poi gli esami di idoneità e quelli integrativi per gli studenti che vogliono iscriversi all'istituto superiore ci sono dei problemi per esempio c'è chi mette un tablet con un tre piedi un controllo dice che abbiamo che qualcuno ha ideato in attesa delle indicazioni del ministero dice un preside ci sono vari esperimenti che stanno facendo i vari presidi in giro per per l'italia la piattaforma annunciata dal ministero dell'istruzione che permetterà una verifica giornaliera in segreteria dei green pass del personale evitando problemi di privacy e caos dei controlli non sarà operativa prima dell'inizio delle elezioni cioè dopo il 10 di settembre il motivo è semplice il garante della privacy non ha ancora dato il via libera alle schede tecniche e dovrebbe farlo tra oggi e domani subito dopo dovrà esserci un provvedimento probabilmente un decreto legge che introdurrà ufficialmente la novità a livello nazionale poi ci sarà qualche giorno di indispensabile test della piattaforma infine la partenza ufficiale che dobbiamo dire siamo comunque alle solite intanto il 90 per cento del personale scolastico è vaccinato ma nella fascia 12 19 anni quella degli studenti siamo ancora al 31 per cento bene il 31 per cento che ha fatto la seconda dose il 53 la prima dose intanto come vi dicevo prima in questi giorni sarà questa verifica manuale del green pass così un collaboratore scolastico attraverso l'applicazione dovrà inquadrare verificare il qr code del documento di ogni docente o impiegato e collaboratore che entra comunicando eventuali trasgressioni quando entrerà in vigore la piattaforma sarà un enorme vantaggio chissà se veramente la piattaforma entrerà in vigore il 10 di settembre visto come funzionano le cose nella burocrazia nello stato italiano chissà magari hanno buttato lì una data giusto per dire adesso stiamo arrivando e magari sono in alto mare magari non funzionerà mai chi lo sa io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una decina di minuti siamo anche poi in tele italia su facebook e nell'altro canale qua su youtube tele italia seconda rete dove potete vedere video di politica ma non solo grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video grazie a tutti